Musica Grandi, cosa stavo dicendo? Stavo dicendo che... Ancora distratto, eh? Pensavo a suo padre Legendo il giornale? Sì, professore Suo padre, infermiere alla missione Proprio dove deve andare lei Ah, giù È quello che mi diceva il preside Il mare di stanotte Ormai siamo bloccati qui Ho paura anch'io Prendila, potrà assorbire Ora torniamo in stile Pisani, come faremo per andare via di qui?